Amiche e amici e radioscoltatori di Radio Catalan, buongiorno. Oggi un altro ospite con noi, si tratta di Paolo Ziconi, lo conoscete un po' tutti, algherese, naturalmente da colmè vecchia conoscenza, non peraltro perché eravamo giornalisti a quella che fu la prima televisione locale di Alghero, Teleriviera Corallo. Oggi il nostro Paolo Ziconi fa il musicista, nonché anche insegnante di musica presso le scuole medie qui ad Alghero. E allora buongiorno Paolo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Siamo in diretta naturalmente. Certo, siamo rigorosamente in diretta e quindi tu puoi dire di te. Questa è Radio Catalan, sfrutta quelli che sono i canali televisivi di Catalan TV e per cui oltre alla voce ci si vede pure in televisione. Per cui un saluto particolare anche a coloro che ci stanno seguendo. A coloro che stanno seguendo in televisione, non so quanti siano a quest'ora, ma hai riscontri. Tu non devi mettere limiti alla provvidenza, caro Paolo. Ho capito. Come quando ti presentavi a Teleriviera Corallo che dovevi leggere il solito TG. Un attimino, un attimino. Allora non eravamo seguiti, eravamo iper super seguiti per tutta una serie di motivazioni. Diciamo quelle belle e meno belle, ma quasi mai simpatiche. Però diciamo che allora non c'era concorrenza, di fatto. La nostra concorrenza erano i giornali, prima o fra tutti la Nuova Sardegna, con la quale peraltro anch'io ho collaborato per un periodo. E di fatto eravamo soli. Non c'erano mille canali come oggi. E si parlava di Alghero, era l'unico proprio telegiornale. Paolo, tu sai che una TV locale, una radio locale, giustamente chiama quelli che sono gli ascoltatori che seguono e soprattutto vogliono seguire quelle che sono le notizie pretamente della nostra comunità. Per cui anche CatalanTV non è seguita, è iper seguita, come dicevi, per Teleriviera Corallo, in quanto è una realtà locale. Una realtà locale che, oltre a dare le notizie con i Tg quotidiani, dà anche quelle che sono le opportunità di invitare ospiti. No, aspetta però, non voglio essere frainteso. Assolutamente no, ci siamo capiti. Ovviamente ospiti anch'io tante volte di CatalanTV, quindi so che cosa fa e so quale è seguita. E questa è una situazione particolare, nel senso che io sono stato ospite nel Tg di CatalanTV. Quindi hai avuto pochi minuti. Sì, ma era il Tg e questa è una situazione per me abbastanza nuova. Se ho capito, noi siamo in radio e siamo anche in diretta via streaming. Esatto, bravo, bravo. No, no, proprio in diretta. In chiaro. Ah, eccolo. In chiaro, allora ci seguono in chiaro su tutte le tv, naturalmente digitali, e naturalmente anche sui social in streaming, sulla pagina Facebook di CatalanTV. Ho capito. Per cui non siamo per niente, siamo piccoli come entità. Considerate che tecnologicamente io sono un asino, quindi non questa cosa. Sto spiegando queste cose. Siamo piccoli come entità, ma comunque siamo sul digitale, per cui ci vediamo tutti. Piccoli ma grandi relativamente ad Alghero. Assolutamente sì, assolutamente sì. Non tocca a me dirlo, però tu segui il telegiornale perché ti interessano le notizie. No, poi coincide anche con i miei orari, per cui è ovvio che ascolti le notizie di Alghero, no? A proposito, tu lo sai che in radio si salta da una parte all'altra per poi sempre comunque rientrare in quello che è l'argomento, la chiacchierata che stiamo conducendo. Ma stamattina, in questa chiacchierata, ti sei presentato con una bella camicia azzurra, ma c'hai i pantaloni corti per caso? No. No, assolutamente. Ti ricordi quando trasmettevi a te la riviera Corallo? Un attimo. Che facevi parte di quei mezzoguschi e tu avevi giacca, cravatta e tutto e poi sotto con i pantaloni corti per fare un po' di fresco. Mi dispiace, mi dispiace, adesso mi rivolgo agli ascoltatori, mi dispiace smentire il mio carissimo amico, nonché ex collega Michele Serra, sono passati tanti anni, quindi un minimo di confusione o di scambio di persona ci sta, lo salutiamo, tu ti stai riferendo al carissimo amico, nonché dottore, nonché nostro collega, Elio Manca, Elio Manca, il quale addirittura lui tornava dal mare, si metteva giacca, cravatta con i pantaloncini da mare sotto, poi era militare, faceva il servizio militare, prima di tornare in caserma per ripresentarsi, lui aveva sotto la mimetica e sopra si metteva la giacca e cravatta, queste cose le faceva Elio, quindi stai confondendo persone, non ero militare. Ammettiamo che vuoi nascondere qualcosa. No, io non nascondo niente, io sono quello passato alla storia locale della TV per aver detto A0, perché la notizia era scritta 0 A0, e io siccome in quel momento stavo leggendo ma pensando ad altro, il redattore aveva scritto 0 A0 usando il numero, e io dopo che ho detto quella O mi sono ricordato che stavo leggendo un risultato calcistico e mi è uscito O A0. O A0, e quindi Marinaro poi, ma cosa hai detto Paolo? Non tanto Marinaro quanto mia madre da casa, che era peggio. Comunque salutiamo Lucio Marinaro che senza altro ci sta guardando. Salutiamo Lucio tantissimo, come no. Ascolta, cosa ti è rimasto di tanto tempo trascorso la TV locale? La prima TV algherese? Allora, io dovrei dire, anzitutto partire dalla radio, perché come forse anche tu, io sono nato con la radio, io sono nato con Radio Sandwich praticamente, che è la prima ad Alghero, ma anche una delle prime in Sardegna e credo in Italia. Da lì poi è iniziato il discorso della TV, e poi anche quello della Nuova Sardegna, e poi anche con altri giornali. Un patrimonio grandissimo di informazioni e conoscenze. Io, grazie a questa attività, ho imparato tante cose e ho conosciuto delle cose che non sapevo, anzitutto della mia città. Per dirne una, io non mi vergogno ora a dirlo, ma non conoscevo Lucante della Sibilla, che si fa in cattedrale la notte di Natale. Quando la Nuova Sardegna mi affidò dei servizi culturali giornalistici su Alghero, a un certo punto contattai Don Francesco Manunta, che è stato uno dei grandi studiore, e lui mi suggerì un articolo sul Cante della Sibilla. Io lo guardavo, scusi, che cos'è? Di cosa parla? Grazie a questa esperienza, ma sto parlando di quello, potrei parlare di tante altre cose. Paolo, lo sai perché io ti faccio parlare continuamente? Perché parlo troppo. No, perché hai una bella voce, una bella voce radiofonica, e soprattutto videofonica, nel senso che anche a video sei gradevole. Ti ringrazio, forse è troppo buono. Assolutamente no, perché all'epoca qualcuno ti paragonava, anzi ti dava, superiore a determinati cronisti della RAI, e parlo di RAI 3 all'epoca. No. Assolutamente sì, per quanto riguarda la voce sì. No. Tu non ti reputi a questi livelli? No, ma assolutamente no. Io ricordo invece che eri abbastanza quotato per quanto riguarda il tuo timbro di voce radiofonico. Ma sai, e l'ho anche un po' perso. Non essere troppo modesto. No, ma quando poi tu fai altro, perché allora stavi attento all'addizione, stavi attento a tante cose. Poi purtroppo esiste come una liberazione, è come uno che fa, è un paragono improprio, è come uno che fa dieta, per un lungo visto ti piace anche parlare di mangiare con me, è come uno che fa dieta e che a un certo punto no, è come uno che fa dieta per tanto tempo, poi alla fine si sente più libero e inizia a frequentare i ristoranti. Così sono stato io con l'addizione, nel senso che allora facevo questo lavoro e curavo tutta una serie di cose, che poi col tempo ho un po' perso. Ma scusami un attimo Paolo, tu forse l'addizione la facevi anche perché nel frattempo studiavi canto. Sì, esatto. Quindi ero anche, c'erano degli studi contemporanei, io mentre Elio rientrava in caserma, io andavo in conservatorio, anzi io venivo da Sassari, tant'è che l'ho spesso in ritardo, come ricorderai. E adesso che rapporti hai con Elio, ma anche con coloro che hanno collaborato? Ma guarda, con Elio ci incontriamo in qualche rara cena. Sì? Giusto, sì. Per non allontanarci dalla tavola. Poi con Lucio, lo vedo, ci siamo anche sentiti al telefono. Lucio sta serenamente invecchiando, sono passati tanti tanti anni da allora. A noi ci sembra l'altro ieri, poi ci rendiamo conto che invece parliamo di decenni. Ormai sono decenni e decenni quando parliamo delle prime radio e della prima televisione. e con te io mi vedo sempre in queste occasioni un po' televisive o radiofoniche, siamo stati assieme quando sono stato alla radio e ti ho incontrato qua anche altre volte. Paolo, ti sei mai chiesto, ma questo qui, ma sempre in mezzo ai microfoni, sempre a parlare, sempre a comunicare, ma non sei stancato ancora? No, 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 no. Non te lo sei mai chiesto? No, nel senso che... Ma è un vizio secondo te? No, è un amore, è una passione. Tu, a te piaceva, è sempre piaciuto fare questo lavoro e hai avuto l'opportunità di continuarlo. Io a un certo punto ho dovuto fare una scelta. A volte mi chiedo se è stata poi quella giusta, perché quando ho iniziato a fare il cantante, cioè io mi ricordo questo particolare, parliamo di una realtà locale. Quando facevo, come te, facevo il giornalista, ripeto, anche per la Nuova Sardegna e per la televisione, eravamo una realtà diversa rispetto a oggi, perché eravamo unici, non c'erano altri, e non c'erano altre televisioni, i canali televisivi erano pochi. Non c'erano i giornali online. Noi facevamo... esatto, era un altro mondo, noi stiamo parlando di un altro mondo e di un'altra epoca. E quindi noi, praticamente, per questa unicità ci dava, come agli occhi degli altri, una sorta di autorità più o meno ingiustificata. Ti sentivi protagonista? No, no, non è che mi sentivo, è che quando andavo... Uomo pubblico? No, è che quando andavo là, ma questo lo sai anche tu, è arrivata la televisione, come che noi fossimo la Rai, e ci rivenivano, ci rispettavano. Ti sentivi personaggio pubblico? Poi sono passato, poi ho iniziato a fare il cantante, quindi sono passato dall'altra parte, e io ho finito per rispettare i giornalisti e per temerli. Mi temi? Sì, e quindi mi sono trovato... Soprattutto alla critica? Ma certo, perché comunque sei sotto osservazione, e io come cantante venivano più rispettati i giornalisti, di come non lo venissi e non lo venga rispettato io, non lo sia rispettato. Quindi voglio dire, ti dirò, ero più rispettato un tempo di adesso. Addirittura? Beh sì, perché questo lavoro... Se appunto stai parlando di queste cose, se dovessi rientrare o ritornare indietro, cosa preferiresti fare? Le stesse cose o hai delle idee ben precise? La musica, va bene, la musica è sempre stata la mia. Tant'è che io entrai sia alla radio che poi al Telerivera Corallo come cronista musicale. Di fatto io entrai nella TV e anche nella radio... Per fare servizi... Seguendo addirittura l'estate musicale internazionale. Quei bellissimi concerti al Chiosto di San Francesco, che richiamavano alcuni tra i più grandi concertisti del mondo. Nasci come, oltre naturalmente a studiare quelle che sono le musiche e gli autori di chi appunto queste musiche le componeva, e soprattutto anche dei cantanti che poi le portavano nei concerti e tutto. Ma tu ti riputi ancora un cantante classico o sei un cantante che ti adatti a qualsiasi tipo di musica? Questa è una domanda da... Allora, tento una risposta. Sì. Nasco come cantante classico, nasco come cantante lirico. Di fatto io non dovevo neanche cantare. Io dovevo fare... Tu pensa, mi ero iscritto in direzione d'orchestra, una cattedra che poi non venne mai realizzata al Conservatorio di Sassani. E allora mi dissero, guarda, visto che ami molto la lirica, iscriviti in canto. Se poi istituiscono quella cattedra, ti spostiamo lì. Intanto entra in conservatorio. Ma tu avevi già quella che, sì, in madre natura ti ha dato una bella voce. Beh, io da bambino... Annalcare su una bella culguena. Da Mignot io cantavo. De Mignot cantavo. Sì, sì, cantavo. Ti concedevi? Da bambino? Sì. Beh, addirittura... E chi ti ascoltava? Il vicinato. Ah, sì? Sì, addirittura. Poi avevo un... In casa mia c'è un poggiolo. Con le finestre aperte? Era un mezzo matto, mi affacciavo e cantavo da bambino. Questo non lo sapevo, vuoi dire? Ma la donna immobile era la mia area preferita. Assolutamente. E poi addirittura ero talmente scemo e forse i miei compagni simpaticamente lo erano più di me. Vabbè? O forse lo facevano per giocare. Facevano il pubblico sotto. Addirittura... No, vabbè, quello lo facevano anche i genitori. Ma mi disturbavo anche io quella strada. Ma eri discolo? Assolutamente. Ma eri discolo? Il quartiere, il rione, sì, lo disturbavo. Eri discolo? Mataresu? Mascalzone? Da piccolo? Parecchio. Sì? Sì. Sì. Però questa del canto era una pazzia. Io ero discolo peraltro. Ero discolo quando disturbavo gli altri, quando rompevo le scatole, quando a volte facevo qualche battutina, prendevo in giro. Purtroppo cose che... Io ero quello che, visto che non so se è bello dirlo, in radio o in televisione, e quando c'erano i muratori che venivano a casa mia a lavorare... A fare qualche ristrutturazione o in bancaire... A casa mia aveva sempre, ancora, ahimè, devi sempre fare interventi. Ricordiamoli, il mitico Ciugioannantoni Corbia, soprannominato Landia, il mitico Ciugino Spada, soprannominato Baionetta, tu pensa che... Una volta sono salito in terrazzo, mi sono fatto il giro del cornicione e Ciugioannantoni ha fatto a tempo a prendermi e Bianco, come una carta, mi ha consegnato a mia madre, preghi sana che smignò, c'era proprio... E invece un'altra cosa che facevo, mi mettevo in quel poggiolo e facevo la pipì sotto, in modo da... Guarda, ero una cosa... E ricordo sempre Ciugino Baionetta, Ciugino Baionetta, perché poi io dopo che facevo andavo a guardare i risultati. Ah, pure! Cioè, ricordo, Ciugino Baionetta, che si guardava, guardava in alto. Il Paolo sicone della situazione. No, no, meglio... Ascolta Paolo. Non si direbbe, ma... In famiglia, nonostante questi difetti... A scuola ero un po' più chiuso, molto chiaccherone, nel senso che ero capace di chiacchierare ce l'hai, ce l'hai, tutta la mattina. Ce l'hai, ce l'hai la parlantina ce l'hai. Però, iper rispettoso degli insegnanti, perché in casa mia, soprattutto mia madre, mi aveva inculcato, proprio inculcato questo... Certo, quello del rispetto. assoluto per gli insegnanti. Ma in poche parole, prima vigeva un po' in tutte le cose. Secondo me sarebbe anche il caso di... È vero? Sarebbe anche il caso di recuperare un po' questa esperienza, però... Però... Apriremo un altro discorso che ci porterebbe un po' lontano. Caro Paolo, tu eri considerato, siete tre fratelli, eri considerato Luca Ganiude in casa. È vero? Lo ero, perché comunque il più piccolo è sempre il Caganio. Però eri discolo. Te l'ho detto. È tuo padre, l'uduttore Ziccone. Ma credo che sia... Credo che, rispetto a miei fratelli, almeno Antonello ha sempre detto, indicando a me, lui è stato il più sfortunato, sono quello che si è preso più susse dei tre. Antonello sì. No, io. Ah, tu addirittura. Lui dice che sono stato io. Insomma, uno lo fa scaricare il cabanino. No, 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 io non posso... Io ero il più piccolo, quindi non so, loro erano già grandicelli quando sono nato io. Però mio fratello dice che quello che mio padre ha ogni tanto picchiato un po' di più, relativamente, molto, ero io. E lo capisco, perché se facevo tutte quelle cose... Ma questo non era... Io ero quello che andava in ambulatorio a rompere le scatole ai pazienti, prendendo in giro. Un giorno sono andato al bar di Giù, il famoso bar Sogio in via Simon, mi ricordo a sfottere questi signori che erano al bar, tutti algheresi, mi ricordo, buon'anima, c'è Salvatore Segaferro, prendevo un ferro, facevo la finta della sega, prendevo in giro, no? E mi ricordo che quando salì poi le scale mi trovai mio padre all'improvviso che mi accolse con una sussa. Addirittura. Ma già scuriva? L'uduttore già scuriva? Rarissimamente, però quando lo faceva valeva per... Qual è la punizione che magari tua madre o tuo padre usavano nei tuoi confronti? Guarda, mia madre, ma non era un atteggiamento, era... Se tu andavi a scuola male, non è che stava la punizione, non esisteva la punizione. La punizione era il clima che si respirava, che era un clima di lutto. Cioè lei ti faceva pesare la cosa, ma non te la faceva pesare togliendoti questo, togliendoti quello o proibendoti di... Te la faceva pesare facendoti appunto pesare... Questo basso profilo di tristezza. Era come un... che era peggio di una punizione poi alla fine. Non parlava nessuno? No, non è che non parlava nessuno, vivevi il... È come quando muore una persona, che vivi il dramma e quella era una punizione di fatto. E tu non usavi rivolgere parola? No, non è che non parlavi, era che lei ti faceva acquisire la consapevolezza di un qualcosa che non era andato bene. chi è che ti consiglia di intraprendere poi dopo che tu ti cimentavi da bambino nel canto? Chi ti dà l'input per continuare ad affrontare il mondo canone? No, allora, io cantavo, poi a un certo punto mi è arrivato chiedo ai miei per Natale di regalarmi una di quelle tastierine, sai, si chiamavano It Organ Bontempi, le vendeva la Uppim, le vendeva la Uppim, però hanno belle elettriche, cioè, me la regalarono e io in un giorno imparai tutta la novena di Natale, perché ero facilitato con i bassi, no? Si spostavano un pochettino. Tu hai studiato anche musica? No, aspetta, dopo, questo avviene dopo. Perché io sono curioso. No, no, e allora feci tutta la novena di Natale vestendo, anche qui i miei amici, uno con la tovaglia faceva la funzione, ti ricordi la novena è in latino, e il coro che cantava Regen Venturum Dominum con mia nonna, unica spettatrice che continuava a dire, perché mia nonna stava sempre in salone, seduta là, quindi lei comunque volente o non lente si doveva assorbire questa cosa. C'era una console davanti a lei che era un ottimo altare, allora c'era questo con la tovaglia che faceva oremus, e mia nonna Akesh e su un ultra già la religio, e tutti gli, e noi in coro, Regen Venturum questo, sì, poi allora era in latino la novena, era molto, molto teatrale. La nonna materna o materna? Materna. Materna, sì. E parlava in argherese? caspita. Tu pensa che lei nata ad Alassio, quindi di famiglia al 100% ligure, non ho mai capito come mai parlasse, ma lì parlava proprio quell'algherese schietto, quello che parli correttamente senza pensarci, e con mio nonno, io che non ho mai conosciuto, parlavano in algherese, mia mamma infatti era quella che parlava l'algherese più di tutti. Mio padre, no, aspetta, mio padre è una situazione diversa, mio padre nasce da una napoletana e da uno che di fatto era di Sassari, papà ha imparato l'algherese in strada, essendo nato lui in via Carlo Alberto, e lui parlava all'algherese in strada, mamma ha sempre sentito l'algherese in casa, perché i miei nonni parlavano in algherese, fra di loro. quello che lo parla meno e mi dispiace purtroppo, sono io, guarda, sono una cosa drammatica, poi quando ho tentato di parlare in algherese, mia mamma non mi ha mai incoraggiato, perché mi ha sempre messo la croce su, ha detto film me, tu parli come tacia, no, io ho una zia, come tacia, che sta a Roma e pensa di parlare all'algherese ma parla come chi lo sta a Corsica e così diceva. Ascolta, ma parlando e tornando sul discorso canoro, sì, quando, a quale età appunto riesci a iscriverti in quelle che sono le scuole indirizzate alla musica e quindi al canto? E allora io inizio dopo che mi metto a suonare queste cose, la novena, le canzoni, tutti a orecchio perché nessuno mi ha insegnato e a un certo punto arriva, il tuo palcoscenico era queste prove, il mio primo palcoscenico te lo volevo dire prima, quando ero bambino io organizzavo il festival di Sanremo in cortile e mettevo i miei compagni a fare, a fare, a fare il coro di Nora Orlando, il 4 più 4, li piazzavo su una cosa e quelli facevano aspetta e quelli facevano e dicevo luglio sarebbe un grosso sbaglio non rivederti più e dicevo voi adesso a tempo fate ya 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 e quelli scemi e quelli scemi e un pazzo anch'io no beh vabbè non lo so io rido perché mi fa sorridere questa cosa famosissima grande indimenticabile Barbarina Pacchiero che aveva il negozio di genere alimentare in via Pascoli e li comprava biscotti e si mangiava quello è il premio quindi per la mia che i sciussi fevano il coro proprio per i biscotti almeno il grande carissimo amico Franco Maltana ottimo batterista mi dice che lui lo faceva per quello io noi cric secondo me lo faceva perché era matto anche lui però io prendevamo tutto il vicinato cioè tutti i bambini eravamo in fondo bambini di strada giocavamo in strada non avevamo il computer tu lo sai benissimo che tu fossi un bambino di strada assolutamente sì assolutamente sì la strada era il nostro la strada è il giardino di casa il cortile ma la strada erano i nostri quindi usavi il tuo giardino come piccolo anfiteatro sì però poi giocavamo anche in strada nel vero senso della parola intendo la carreggiata che giochi facevano? quelli leciti nascondino qualche volta passeggia mi ricordo anche delle grandi uscivamo in bicicletta facevamo delle passeggiate addirittura dove oggi c'è il carlos quinto era campagna quindi col coi cani no? perché in giardino c'erano i cani li portavamo esatto li portavamo ne combinavamo ma poi tutto avveniva in un clima e con un atteggiamento molto goliardico molto è stata una vita comunque sana quella ti è piaciuto ti è piaciuto ma guarda la recuperassero i ragazzi di oggi forse sarebbe lo fanno alcuni però veramente vivere all'aria aperta perché così vivevamo noi allora bene dopo questa fase adolescenziale naturalmente dove si gioca si scherza poi si deve intraprendere quella che è una strada un po' più più seriosa è lo studio lo studio della musica nasce perché dopo che facevo quelle cose i miei genitori pensano bene di affidarmi al famoso allora maestro Nannarelli i tuoi genitori ci credevano in te diciamo dal punto di vista canoro parlo un attimo loro avevano visto che io avevo un'inclinazione musicale allora mi misero nelle mani del maestro Nannarelli che allora insegnava pianoforte e con lui iniziai e grazie al maestro Nannarelli poi io entrai per la prima volta nel in quel mondo allora molto attivo e che stava rinascendo prepotentemente della canzone algherese perché perché lui di quella canzone era stato il primo codificatore era colui che per primo a parte i vecchi Paes lui che poi io conoscevo benissimo perché Giuse veniva a casa a tagliare i capelli quindi era lui era Musconi Musconi e dicevo il maestro Nannarelli è quello che per primo ha proprio armonizzato le canzoni algheresi quando con Gavino Ballero fecero le prime commedie a te piaceva più cantare in italiano o in algherese cantavo in italiano cantavo in italiano qual è la canzone mi hai detto che a te piaceva molto la donna immobile no quella è un'aria d'opera perché allora avevo anche scoperto l'opera io dal bambino ma perché l'avevo scoperta ma io di musica perché al teatro Selva allestirono delle opere e i miei genitori benché fosse in edizione serale sì notturna mi portarono e ho rimasto incantato affascinato dall'opera da quest'opera che era il rigoletto riesci a farti coinvolgere imparai subito la donna immobile imparai si vendetta e la donna immobile subito e le cantavo ma la donna immobile era la mia preferita perché c'era l'acuto finale e quindi con quello svegliavo il vicinato perché mi mettevo al poggiolo e quando ti vedevano passare la mattina cosa diceva il vicinato mia Paolo eh ma tarizu era un po' rompiscato ecco tra i giochi illeciti ad esempio avevo visto io poi guardavo vedevo guardavo molto quello che capitava attorno mi ricordo vi ricostruire questo palazzo ma si trattò di minare perché c'era della roccia nello spazio allora misero le mine e io rimasi affascinato allora io riproposi il gioco con i petardi andai da Cio Gigi e comprai quella carica da 24 petardi che lui vendeva e e e e li sparavamo a che ore alle 3 di pomeriggio con i compagni quindi arrivavano una volta un giorno anche i carabinieri perché due anziani denunciarono cioè chiamarono la polizia ma ti reputavi il pierino della situazione all'epoca il ragazzino più sveglio io non mi riputavo per niente mi vedevano come monello ecco 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 ascolta Paolo anche a casa mia ne combinavo sì e dopo parliamo aspetta siccome ma queste cose le racconti anche ai tuoi alunni tra una lezione e l'altra quando c'è una piccola pausa qualche aneddoto qualche curiosità la racconti a loro o hai no forse queste cose forse no che io in classe fossi un chiacchiero infatti quando li riprendo ho detto guardate che rivedo un po' me quindi io non è che vi voglio male però so che è sbagliato il fatto che io lo facessi cosa della quale mi vergogno non giustifica quello che perché eh sì infatti Paolo ci interrompiamo un attimo diamo la linea alla regia un piccolo break diciamo intermezzo musicale per poi riprendercelo assolutamente e conclude questa chiacchierata che a me piace moltissimo e ti sto scoprendo un lato che appunto era in ombra non ti vedevo in quel in quel in quel modo e allora linea alla regia la speltata a prenda graziosa e ascolta la mia lamento che mentre tu romis contenta io pass la vida affannosa per essere tu graziosa ascolta quita volvere che finza la gente del carré per a mi arresta a tu la la passarea santa ansiara la 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 Grazie a tutti. 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 Bene, siamo rientrati in studio. Questa non era una pubblicità. No. Ero io. Poi mi sono corretto, ho detto un internezzo musicale. Ti devo fare i complimenti Paolo. Questo è un lavoro molto vecchio, ho fatto con l'orchestra a Roma, l'orchestra d'archi di Morricone, la Roma Sinfonietta, certamente non diretta da lui, diretta da Daniele Manca, che era un mio compagno di conservatorio, oggi brillantissimo direttore della corale Vivaldi di Sassari. Quello è il coro polifonico che inaugurava proprio quell'anno la direzione dell'attuale direttore Ugo Spanu, che era appena arrivato. Fu una delle sue primi lavori con il coro di Alghero. Mi è piaciuta e soprattutto sono stato molto molto contento di aver sentito una delle poche volte Paolo Ziconi cantare nel suo genere. E soprattutto in quello che era il mio genere, anche se devo dire ogni tanto... No, no, nel suo genere, nel suo genere come tenore, come... Sì, sì, infatti in quel genere lì, ma era il mio genere. Oggi io quando canto, faccio cantautori, faccio concerti, non canto con quella vocalità. Perché mi devi permettere, caro Paolo, che nel corso degli anni, nel corso della mia conoscenza con te, anche quando eravamo in tv a Tele Riviera Corallo, tu non ti sei mai permesso di farmi sentire o farci sentire la tua voce. Ti sbagli. Io perlomeno non c'ero. Allora, tu hai ricordato poco fa il carissimo amico Lucio Marinaro, il quale spesso e volentieri, spesso e volentieri, forse già c'eri tu, spesso e volentieri dopo il Tg, che andava anche allora rigorosamente in diretta, l'edizione delle otto e mezza mi pare fosse, e dopo mi, a volte, insisteva, e tu sai che quando Lucio insisteva bisognava dar retta, affinché io cantassi Alchemia. Forse io ero già andato via all'ora del Tg, magari. Forse, ecco, può essere, sì. E quindi non ti avevamo mai sentito. E allora io cantavo lirica, e quindi con questa voce facemmo questo lavoro, perché io pensavo che il canto sardo, ma anche quello algherese, che poi aveva in queste canzoni un po' una derivazione napoletana, si adattasse a quel tipo di voce. Questa, se non sbaglio, era Mignona Murena. Mignona Murena. Se non sbaglio, Badalotti Cacciotto. Una cosa molto controversa, perché c'è gente, anche tra gli studiosi, che dice che in realtà questo non è un pezzo loro, ma loro l'avrebbero ripreso, non ho capito se dalla tradizione napoletana o dalla tradizione spagnola. Però di fatto gli autori presunti o il corrispondente pezzo popolare non è mai stato trovato. E io ricordo che mio padre diceva, adesso non ti posso essere precisissimo sui dettagli, ma alcune cose me le ricordo. Lui ha sempre detto a me che lui ricordava quando Badalotti e Cacciotto stavano scrivendo questo pezzo, quando lo provavano. Lui ricorda a quest'immagine di Badalotti che provava questa canzone. Lui era giovane, o forse ragazzo, adesso stiamo parlando qui di periodi della guerra. Ho capito. O poco prima anche. C'è sempre qualcosa del pro o contro? Papà sosteneva che loro fossero gli autori, sì. Almeno secondo i suoi ricordi personali. Bene, tornando a noi, sempre rimanendo in tema, naturalmente tu raggiungi quello che è il tuo obiettivo di iniziare qualche concerto. Però nel frattempo continui quella che è la tua opera di studio e di educazione alla voce. Frequenti qualcosa oltre alle scuole? Quando facevi lirica, vabbè, il conservatorio è stata la prima palestra che più che insegnarmi a cantare mi ha insegnato a vivere la musica perché erano anni quelli in cui il conservatorio viveva. Se sono quegli anni di passaggio tra una tradizione estremamente classica e una scuola che si apre piano piano a qualcosa di diverso. Arrivavano alcuni dei Bertas che insegnavano, c'era Paolo Fresu che studiava con noi. C'erano tante novità, tanti gezzisti sono usciti da quegli anni là. E poi eravamo anche in pochi perché oggi il conservatorio di Sassari è, non dico quasi un'università, è piena di gente. Tu pensa che di Alghero eravamo siano due e ci conoscevamo tutti. Quindi c'era anche questo scambio tra di noi di informazioni, di esperienze. Come era considerato il conservatorio di Sassari o com'è considerato adesso il conservatorio di Sassari alla stessa stregua di altri conservatori a caratura nazionale? Non era certo il Santa Cecilia di Roma o il conservatorio di Milano che godevano di una tradizione. Il conservatorio di Sassari era relativamente giovane, anzi molto giovane perché di fatto era nato come istituto musicale che poi era diventato conservatorio. Qui siamo alla fine degli anni Sessanta, se tu pensi che io sono entrato nel 79, nel 79 sono entrato in conservatorio, il conservatorio in sé avrà avuto dieci anni di vita. Ma oggi come è cresciuto rispetto ad allora? Ripeto, oggi è diventata una città, io quando vado lì, intanto non è più neanche dove l'ho fatto io, oggi è Capuccini. Molti dei miei compagni di allora sono oggi docenti e hanno tanti corsi, addirittura oggi il jazz è diventato un corso di studi. E accanto a quello ce ne sono altri nuovi, il corso di musica elettronica, si va, si cerca di andare a passo con i tempi come anche la scuola stessa nella quale io insegno non era quella che ha insegnato a me. È vero che il tuo arrivare all'insegnamento, nel senso riesci ad ottenere tramite concorso la cattedra, ritarda quello che è il tuo obiettivo di raggiungere la fase massima per quanto riguarda lo studio del canto? Guarda, per quanto riguarda lo studio non credo, perché comunque i miei stage li ho fatti, i miei corsi li ho fatti, io addirittura studiavo fuori, perché dopo il conservatorio non è che tu sai cantare, e quindi sono andato fuori dai miei maestri, prima a Rimini, poi a Roma, poi ho frequentato gli stage con Pavarotti, con Joan Doreman. Hai conosciuto Pavarotti? Assolutamente sì, perché ci ho fatto anche lo stage a Modena, in due round, il secondo mi pare fosse a dicembre, il primo forse a settembre o prima dell'estate, adesso più o meno, non ricordo esattamente le date. Com'era come uomo Pavarotti? Scusa se come maestro, come insegnante, come consigliere? Allora, noi eravamo intanto tantissimi, perché era uno stage, quindi fuori uno avanti l'altro, lui ci dirigeva dal palco reale del teatro, dal palco centrale, con un microfono, noi stavamo sul palcoscenico col pianista accompagnatore. Io mi ricordo questo, più che i consigli veri e propri, perché poi sai, alla fine non è che dici niente di nuovo, o non è che dici cose che altri non ti hanno già detto, da quel punto di vista non ho dei ricordi particolari. Ho però questo ricordo, che quando a un certo punto lui ti doveva dire qualcosa e lui cantava per farti capire meglio, sia a me che agli altri, addirittura anche ai soprani, mi ricordo questa voce eccezionale, terribilmente duttile, perché lui con la voce diceva, ecco qua, ad esempio quando lei dice questa frase, e te la cantava, e la cantava per me, che ero baritono, mentre lui era un tenore, la cantava per i tenori, cantava anche ai soprani, le parti dei soprani, e mi ricordo questa voce, perché ovviamente io poi ascoltavo anche le prove con gli altri, no? Perché imparavi forse anche e soprattutto da quelle, e mi ricordo che stavamo incantati, perché questa voce era duttilissima, riusciva a cantare tutto, riusciva a cantare tutto. Sì, ma è il cantare da parte tua, di fronte a un simbolo... Ah, me lo ricordo benissimo, cantai l'aria del Rigoletto, e mi ricordo, lui stava sul palco reale in fondo, quindi lo vedevo o non lo vedevo, e mi ricordo le gambe che mi facevano così, io non so come sono riuscito a cantare quella... Mi ricordo che la voce mi uscì bella, il timbro venne fuori bene, ma le gambe... E sai, legate alle gambe c'è poi il discorso del diaframma che deve reggere l'intonazione e la tenuta del suono. Lì non so come, ma mi ricordo queste gambe che facevano Giacomo Giacomo, e lui poi mi disse, ecco, senta Paolo, lei che ha una bella voce, e già questo mi... Ti sprona, ti dà quella... E mi chiese un'aria che io non avevo provato per quell'occasione. Dice, potrebbe farmi ascoltare l'aria della Traviata? Mi ricordo questo. E io la cantai, chiaramente, perché comunque l'avevo studiata nei miei studi. Però mi ricordo soprattutto la duttilità di questa voce eccezionale. Lui quando spiegava e cantava, era una voce che poteva fare tutto. Cioè non era un personaggio burbero? Perdeva anche la pazienza. Ah sì? Mi ricordo, e arrivava anche a essere a qualche piccola invettiva, perché se lui stava sul palco, dopo di me toccava, non so, Michele Serra, per esempio, diceva avanti Serra, e Serra in quel momento non era pronto a intervenire. Lui partiva in quarta, si metteva a urlare, Serra dove sei finito, ma forse perché ne doveva ascoltare tanti. Ho capito. Quindi forse era stanco per quello. Paolo, qual è stato il primo concerto dove tu ti sei presentato al pubblico e di qui non c'è bisogno di avere più emozioni, ti devi confrontare? L'emozione c'è sempre, anzi, forse più vai avanti e più c'è. Primo concerto? Perdonami, ho perdonato, ma non mi ricordo esattamente. Mi ricordo qual è stata la mia prima cosa importante. E quale? Ebbè, ho vinto il Mattia Battistini a Rieti, il debutto nel Don Carlos con la regia di Franca Valieri. Quello sarà un ricordo che io mi porterò perennemente. Quindi un'opera sei stato... Sì, quello è stato un passo che mi ha segnato molto. E come mai non hai poi proseguito in quello che magari poteva essere un altro sbocco? Ma ecco, tu poco fa mi hai fatto una domanda. Un pochettino qui la scuola mi ha limitato, anche perché in quel momento io ho iniziato... Infatti non mi ha limitato nello studio, mi ha limitato nella carriera. Ma anche perché veramente erano anni in cui insegnare mi piaceva davvero tanto. Erano anni in cui la scuola mi piaceva davvero tanto. Erano anni nei quali per la scuola rinunciavo a tutto e nei quali per la scuola mi spendevo tantissimo. Facevo dei mega concerti con i ragazzi, delle medie e delle superiori assieme. E sai, io mi butto quando c'è una passione che mi... Contemporaneamente, non so perché, è quella paura che ad esempio io poi con la Valeri non ebbi. Io mi ricordo il debutto al Don Carlos, andai non tranquillo ma forte di prove, controprove. Andrai sicuro sul palcoscenico, la Valeri mi incoraggiò, il direttore d'orchestra mi incoraggiò. E c'era tra il pubblico gente come Monicelli e Patroni Griffi, che erano amici della Valeri ed erano venuti ad ascoltare. Poi però, dopo quell'esperienza, la musica iniziò a cambiare. Iniziarono le paure, iniziarono i registi più severi. Con me erano più severi i registi dei direttori d'orchestra. Addirittura. Sì, e piano piano iniziò come una paura. Quelle gambe che io ho detto con Pavaruzzi, che tremavano, iniziarono, ripresero la tremata. Alla fine iniziò una piccola fobia, per cui interruppi un attimino quella carriera. E contemporaneamente la scuola che mi prendeva, non che mi impediva, ma che mi prendeva, perché veramente mi piaceva molto quello che stavo facendo allora. E poi quelli sono stati anni di stop, di pausa, fino a quando poi non è entrato il pop, il rock, ed è entrato Luigi Tenco nella mia vita. Ho visto che hai virato completamente. Ed è ripartito. Hai virato completamente. E ripartito, oggi io quando canto, oggi io canto mi diverto. Sì. Perché ho quella libertà, anche espressiva, che nell'opera non avevo. Forse non avevo per maturazione personale e non avevo anche perché inevitabilmente il classico ti impone dei paletti che sono estremamente rigidi. Non puoi virare molto. Mentre con la musica, quando faccio cantautori, sento canzoni che nascono in un modo. E poi con i miei musicisti diventano, non vengono stravolte, ma vengono certamente cambiate nell'arrangiamento. E c'è quel pizzico di jazz che ti consente anche quella libertà interpretativa e anche ritmica che era impossibile avere nell'opera. E mi ci diverto molto. Perdonami, ma in queste tue performance usi anche molta gestualità nel cantare? Beh, sì, certo, non ballo in scena e il fisico non sarebbe neanche tra i più adatti. Non intendevo questo, ma quando ti esprimi nel senso che... Beh, io sempre... Ecco, questo l'opera è una di quelle cose che l'opera mi ha lasciato tanto. Quello di una certa gestualità, ma che è anche interpretativa. Perché poi io col tempo quelle interpretazioni che non sempre riuscivo a dare nell'opera, l'opera però mi è servita per farmi interpretare poi i cantautori, che si basano molto sul testo e su testi significativi. E allora l'interpretazione, anche nella gestualità, far capire il messaggio, far capire il testo che stai cantando. Ti chiedo, perché hai interpretato Tenko? Ci sono magari altri cantanti che puoi interpretare? Ma no, no, va bene, ho fatto anche altri, però Tenko è stata. Perché? Tenko è il grande amore. Io ho fatto anche il Drigo recentemente. Ma perché hai avuto quel passato che hai avuto? Tenko, guarda, se ti devo essere sincero, non lo so. è capitato, è capitato, ovviamente io lo conoscevo, lo conobbi da quel tragico Sanremo del 67, quando ero un ragazzino, un ragazzino era un bambino, però ricordo molto quella... Sei legato tu a Sanremo, vero? Io ricordo... Era lo spettacolo per eccellenza... E se non sbaglio tu, proprio perché... Ami Sanremo, io ho visto da qualche parte, ho letto magari sui social, che ti avevi portato a Sanremo la tua classe. Certo che passare... No, 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 no. No, è anche strana questa cosa, no? Che passare dal classico, da Verdi, al Fese di Sanremo. Sì, è vero. Perché hai portato questi ragazzi a Sanremo? È vero, ma perché un mio collega, un giorno, sfruttando questa mia passione per illustrare... Ma avevi un debole per Sanremo tu? No, aspetta, sì, sfruttando questa mia desiderio di raccontare, volle proiettare dei video, dei Pink Floyd, dei Beatles, e lui diceva che io dovevo commentare ai ragazzi questi video e spiegarli anche musicalmente. Poi un anno dopo, il professor Gavino Arras, che saluto, mi disse, ecco, l'anno prossimo facciamo Sanremo. Io da lui non me l'aspettavo, perché poi lui è un grande amante di rock, non certo di Sanremo. Però lui evidentemente sapeva che io ne parlavo, o mi ha sentito parlare. Il prossimo anno faremo Sanremo. Allora io inventai questa storia di Sanremo, che non doveva essere però la storia del festival in senso stretto, ma in senso lato, perché diventava la storia d'Italia. Cioè Sanremo era lo specchio della storia d'Italia. Lo è stato. Quindi organizzi un viaggio studio. Parliamo da quando nasce. Poi mi è venuto in mente, per stimolare i ragazzi a seguire di più, dico, alla fine di questo progetto noi avremo il coronamento del viaggio d'istruzione a Sanremo. E lì riuscì a portarli all'Ariston, al casino dove si svolse il primo anno. Quale fu il commento dei ragazzi che si trovarono diversi? E certamente, soprattutto nelle prime esperienze, rimasero molto colpiti, non fu una gita, fu una gita perché la gita scolastica porta in sé sempre quella componente di piccola trasgressione di goliardia, ma fu un viaggio d'istruzione, perché non deve essere una gita. La gita te la fai con tua moglie, te la fai con la tua famiglia, ma è un viaggio di istruzione, deve esserci quello e deve nascere da un progetto. E tu pensi che questi ragazzi saranno adesso fidi, telespettatori del festival? Questo non lo so, ma certamente, sai, il Sanremo che ho raccontato io era anche un po' diverso da questo qua. Ricorderanno quell'esperienza, questo credo di sì. Ascolta, stiamo ormai giungendo al termine di quella che è stata la nostra chiacchierata di stamattina. Peraltro è gradevolissima. Ti è piaciuta? Moltissimo, perché per me che tornare qui davanti alle telecamere, alla radio, sai, sono sempre quegli amori che non si spengono, perché anche se fai altro poi... Allora, Paolo, qual è una domanda che ti saresti aspettato e che invece io non ti ho fatto? Ma non lo so, perché abbiamo parlato un po' a 360 gradi, quindi... Ti aspettavi qualcosa di diverso? Adesso vuoi fare Marzullo? No. Si faccia una domanda e si dia una risposta? Assolutamente, no, assolutamente. Non lo guardo neppure, figurate. No, ma è caratteristica, no, si faccia una domanda e si dia una risposta e che ne so? Scegli, scegli, cosa vuoi dire? Non lo so, non lo so, ma abbiamo... non mettiamola in politica, adesso abbiamo una nuova amministrazione, i migliori auguri di buon lavoro, ho incrociato poco fa qui l'assessore, il neo-assessore della cultura... Ma tu stai facendo una radio cronaca? No. Non lo so. Non ti piace? Ti piace? Ti sarebbe piaciuto fare un radio cronista? Commentare una... Come l'ho fatto a quei tempi? Sì. Ma sì, e ti ricordi anche, no? Commentavo le processioni, io mi ricordo che tra i servizi le processioni della settimana santa... Peccato, ecco, questo è un peccato. Ma che cosa non ha fatto? Ecco, una cosa, ecco, se devo dire una cosa... Paolo Ziconi, che cosa non ha fatto allora? Guarda, una cosa che invece non è stata fatta, ma non da me, è conservare tutte quelle videocassette che oggi sarebbero dei documenti storici. Purtroppo. E' una cosa che noi, e forse c'eri già tu, o forse ancora non eri in tv, noi presentammo la prima giunta di sinistra di Alghero, il primo sindaco del Partito Comunista. No, 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 ce l'ho detto. E' avvenimenti comunque epocali, che fanno parte ormai della storia di questa città. Abbiamo ripreso, intervistato musicisti di prima grandezza. Io, e me ne pento amaramente, ma chi ci pensava allora? Feci, credo, l'unica intervista televisiva che ebbe ad Alghero Ivan Graziani. Andammo in campagna, io e lui seduti in un asdraio. Tutte cose andate perse. E questo è stato un grande errore, una grande mancanza che allora è stata fatta, anche da noi, non conservare questi documenti, che oggi sarebbero dei documenti che non esiterei a definire storici. Bene, speriamo che invece questi che di oggi sono messi a sicuro... Ma sai, oggi abbiamo altri mezzi. Allora noi andavamo con videocassette, con videocassette che venivano riciclate. Quindi è chiaro che su quella intervista con Ivan Graziani, poi ci andava registrato altro, perché bisognava comprare altre e costavano molto. E non c'era un capitale che ammortizzava tutto questo. E quindi, però tu ti immagini se avessero conservato... E se io mi fossi preoccupato allora di registrare almeno queste cose... Avresti avuto una videoteca personale? Ma guarda, a me quella intervista con Ivan Graziani ce l'ho qui, eh. Purtroppo sono cose ormai passate, ma che comunque rimangono come ricordi. E allora ringrazio Paolo Zicconi che si è appunto... Io ringrazio te che sei stato gentilissimo, che mi hai invitato in questa bellissima esperienza. Ci hai raccontato quelle che magari sono cose che tenevi ancora per te e magari qualcuno non sapeva. Oggi invece qualcosa in più sanno di Paolo Zicconi per quanto riguarda il tuo modo di infanzia e adolescenziale. Bene, ringrazio dunque Paolo Zicconi... Grazie a voi, grazie a te. ...per la sua presenza qui, per questa chiacchierata, ricordando prima di chiudere la replica alle 15.30 e soprattutto si sentirà nuovamente alle ore 21, sempre in serata. Naturalmente non dimentichiamo che sarà anche postata sul sito di CatalanTV. È tutto anche per oggi, vi ringrazio per il gentile ascolto e vi do appuntamento a domani. Buon proseguimento di giornata. Grazie, buongiorno. Grazie. 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 Grazie.